E' bella bellissima a tutti ragazzi e ragazze e ragazze e benvenuti a questo nuovo video sono ancora una volta il vostro corrispondo all'attitudine di crafting oggi ragazzi siamo qui oggi tornati su minecraft scusate ragazzi se non lo dico in modo felice in modo entusiasta come lo dico sempre ma purtroppo ragazzi sono stati danneggiati i file del mio mondo vecchio quindi ragazzi la serie di minecraft inizierà tutto da capo mi dispiace davvero tanto per questa brutta cosa che è accaduta ma comunque ragazzi ci troviamo in un nuovo mondo mi dispiace davvero tanto spero che questa cosa non possa influire su like, sui commenti, sulle iscrizioni sulle visualizzazioni del mio canale dunque ragazzi iniziamo subito spaccando un po' di legna bene ragazzi spacchiamo ragazzi come potete vedere è tornato Mobizen e ovviamente continuiamo a spaccare un po' di legna quindi ho già preso tre tre cose di legna quattro cinque ovvero comunque ragazzi voglio dire anche che in questi giorni cioè in questi giorni ho ricaduto un video comunque ti ringrazio perché i scorsi episodi stanno superando quasi tutti i 30 like anche la speciale 600 iscritti raggiunto quasi 40 like quindi ragazzi ringrazio davvero di pure davvero persone davvero brave ragazzi e poi da quanto potete vedere ragazzi non sto facendo questo video sulla versione minecraft 0.15.0 perché ragazzi lagga a bestia quindi ragazzi ho scelto di usare la 0.14 punto 2 punto 3 mi pare non mi ricordo sarà punto 2 punto 3 comunque perché non lagga è vero che una 0.15.0 sono i pistoni cavalli infatti vi porterò anche quella ma magari più meglio sul tablet perché così magari lagga di meno poi ragazzi siamo in pacifico quindi questa è una cosa che volevo dire perché all'inizio la modalità esi era un po' difficile ecco senza una casa senza un letto senza una spada era un po' difficile arriviamo ragazzi a finiamo quest'albero e poi iniziamo a trafitarci qualcosa quindi vabbè aspettiamo altro po' si si spero almeno di arrivare al 18 diciamo ancora non so se vabbè qua niente allora comunque questa zona è troppo troppo piena di arie quindi direi un po' di allontanarci da questa zona magari ecco quella lì giù non è niente male angeria e ovviamente andiamo lì anche qui ci potrebbe stare una casa però ragazzi troppi arie cerchiamo dopo a costruire solo una casa poca roba poco arie c'è poi dovremo battere un sacco di arie un po' un casino ragazzi siamo esponati allora stanziamo in quella zona dove è un po' non tornare male per ora un anno un minuto verso quella zona ci potrebbe stare in teoria in teoria del decrafting ci sono anche gli alberi neri quindi la percia nera che insomma è per me normale questa cosa la percia normale percianita basta ragazzi che ha un posto per la casa perché infatti se qui inizia una polessa quindi vediamo se dopo questa foreste c'è un bel posto vediamo 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 ragazzi vediamo qua c'è dell'acqua che poco a me interessa c'è queste cose d'acqua di merda ragazzi forse non ho più in qui dai ragazzi vedo qualcosa vedo qualcosa dopo questi alberi inizio a travedere qualcosa cazzo non è molto si avevo perso un blocco mi scorcio di prenderlo ragazzi vedo qualcosa lì giù c'è qualcosa c'è qualcosa speriamo di sì ragazzi c'è qualcosa c'è qualcosa ooooh sì ragazzi c'è la panude panude ragazzi è vario ragazzi però c'è un trono quindi andiamo più verso l'acqua direi ecco sì ecco lì sì ragazzi sì siamo giunti alla panude sì ragazzi va benissimo questo posto va benissimo iniziamoci a craftare qualcosa quindi vai con questi assi di querce quindi ci andiamo anche per 4 una formale uno stack uno stack che può andare bene ci facciamo qui ovviamente una craftable momentaneamente la mettiamo qui a terra mettiamo mettiamoci anche qualche stick così da craftarci la nostra porta piccone porta di quercia ascia altre stick e due pauli di due chest e vabbè questo è poi ragazzi poi andiamo con il piccone a scavare un po' magari più verso di qua ecco così già formiamo una piccola grotta una chiamatela come volete voi stessa cosa scendiamo un po' più giù da fino a quando non troveremo del pietrame speriamo che lo troveremo dai dai pietrame sì che perfetto perfetto abbiamo trovato già ragazzi prendiamolo che non fa mai male perfetto ragazzi perfetto anzi scusate se è un po' lagga ma sta andando a 50 fps che forse lagga un po' sono un po' troppi quindi non va magari troppo fluido infatti ragazzi per il prossimo episodio è meglio che li farò a 40 fps così va un po' più fluido ecco non vorrei passare di troppo perché dopo la grafica non è un granchì perché perfetto ragazzi stiamo mettendo abbastanza pietrame perfetto prendiamone un bel po' meno 30 uno stack non so quanto ne abbiamo sì ne abbiamo 25 ragazzi se ne abbiamo a 30 forse si possiamo prestare parecchia roba perfetto ok ora deve stare a stare di casa eccola qua torniamo ragazzi sopra fa niente che non abbiamo fatti 30 ma giusto per craftarci qualcosa ovviamente credo che c'è stata la mia bellissima cesto che è il cesto guarda ragazzi volevo dire crafto in triple e iniziamo a craftare un'ascia di pedra una bella palò aspetta fornace bella paloccia più come di pile trans meglio due e una spada non lo so diciamo che una spada comunque ne craftiamo un'altra e ci craftiamo anche il no niente basta ok ragazzi mettiamo momentaneamente questi due cesto qui e la fornace qui quindi ragazzi che direi spero che questo video vi sia piaciuto commentate condividete nostra pagina facebook mi scuso ancora per aver perso il mondo di minecraft spero che questa prossima serie di minecraft vi piacerà un mondo e da crafting assolutamente è tutto ok basta cioè basta dire sempre tutto grazie da crafting è tutto bella grazie